Buon pomeriggio e bentrovati per questa edizione straordinaria di Speciale News Web 24. Facciamo, come di consueto, ormai da molti giorni il punto sull'emergenza coronavirus, ma anche c'è quella parte, non parte, tutta Italia che non vuole restare isolata e anche fa sentire le sue voci con le sue emozioni e la sua musica. Ma intanto cominciamo a partire dai dati del coronavirus in Puglia. Finora sono 158 i casi positivi registrati. La maglia nera aspetta Poggia con 18 casi, poi a seguire in provincia di Bari 12 e poi la BAT con 8. Facciamo il punto della situazione con News24.city.